Siamo all'interno della cripta della chiesa di San Giacomo, la parola cripta deriva dal greco e significa nascondiglio. Nel periodo più antico la cripta veniva utilizzata come luogo per la sepoltura delle salme, dei vescovi, dei santi, come luogo anche per la conservazione delle reliquie come luogo di preghiera. Questa cripta aveva una funzione particolare perché veniva utilizzata come spezzeria, come una sorta di laboratorio farmaceutico. I frati dominicani che avevano il loro convento qui annesso alla chiesa avevano un orto botanico, coltivavano piante medicinali con le quali realizzavano pomate, omenti, sciroppi che servivano per il lavoro della popolazione locale. Grazie a tutti.